Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Vi ringrazio di essere qui con noi a passare questo pomeriggio. Benvenuti e benvenuti all'ultimo webinar, tema Mondadori Education, dedica alla didattica digitale integrata. Sono Maria Cristina Scalabrini e sono la responsabile della redazione della scuola primaria per Mondadori Education. Prima di cominciare a entrare nel vivo di questa nostra oretta insieme, alcune informazioni di servizio. L'attestato di partecipazione sarà disponibile su mondadorieducation.it slash attestati entro una settimana lavorativa dal termine dell'evento. Sarà disponibile per i partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di iscrizione entro le 23.59 di oggi. Il video resterà comunque disponibile sul nostro canale YouTube e quindi lo potrete rivedere in qualsiasi momento dove anche le slide verranno caricate nella sezione archivio webinar del nostro sito. Questo webinar fa parte di un ciclo di incontri dedicati a voi docenti per scoprire come integrare la didattica quotidiana a contenuti digitali. Quindi lo strumento cartaceo e lo strumento digitale che comunicano insieme. Sappiamo che siamo appena usciti da un periodo molto complesso e oggi molti di voi sono potuti tornare in classe. Quindi sicuramente è un momento abbastanza storico, diciamo così. Ci sono stati già diversi appuntamenti dedicati alla didattica digitale integrata e quindi vi consigliamo, se siete interessati a questo tema, di andarvi a rivedere questi webinar. Prego di mandare le slide. Grazie. Infatti volevo proprio vedere insieme a voi alcuni di questi appuntamenti che ci sono stati. Sono stati degli appuntamenti interessanti dedicati alla matematica, alla geometria, alla storia e oggi appunto faremo, dedicheremo uno specifico alla musica. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di come la musica possa aiutare nella didattica quotidiana. Parleremo come l'apprendimento dei tutti i giorni, sia in classe che a casa, giocando col corpo e gli oggetti, compreso il computer, possa essere potenziato attraverso l'uso della musica. Di questa sfida bellissima e questo punto di vista interessantissimo, chiamiamo a parlare Teresa Porcella. Benvenuta Teresa. Benvenuti e bentrovati. Benvenuti e bentrovate tutte quante. Teresa da molti anni si occupa di libri per ragazzi come autrice, traduttrice, progettista ed editor. Svolge attività di formazione, laboratori di reading e spettacoli in tutta Italia. È una musicista, è una persona che canta benissimo e ha proprio, come si può dire, una passione enorme per trasmettere questo amore che ha per la musica anche ai bambini e alle persone con cui condivide i laboratori. Con i quali condividi i laboratori. Attualmente è anche docente di progettazione editoriale a Firenze presso l'Accademia Design Comics and Art Academy. Una scuola interessantissima dove vengono formati, tra gli altri, gli illustratori che poi illustreranno i libri che voi scegliete durante le adozioni. Quindi diciamo che Teresa insegna ai nostri illustratori come lavorare al meglio per i nostri libri. Quindi è un ruolo decisamente importante. Allora io le lascio subito la parola, faremo questa chiacchierata insieme e cominciamo subito con la prima slide, giusto Teresa? Dopo questa presentazione io adesso, come dire, mi sento già in imbarazzo. Allora, diciamo che quello per la musica è sempre stata non solo una passione ma un bisogno. È un bisogno che per me è ancorato al fatto di essere un essere vivente che ha intanto un cuore che batte e quindi è già un ritmo, ancorato al fatto che respiro e quindi anche lì ho un ritmo che peraltro ha anche un fiato che sento entrare e uscire e emette un rumore, ancorato al fatto che io cammino, ho un passo e quindi anche lì ho un ritmo, un tempo interno e che quando qualcosa mi piace mi viene da cantare, da ballarla e che sicuramente la voce è per me un elemento primario. La presa di coscienza di questi elementi che ho sempre, come dire, giocato come essere umano nella vita di tutti i giorni è stata progressiva nel tempo e quindi, non so come dire, la musica per me è sempre stata una compagna di gioco. Penso che lo sia per tutti i bambini, lo sia per tutti gli esseri umani e questo mio pensiero non è evidentemente soltanto una percezione soggettiva ma ha un ancoraggio oggettivo in quella che è la storia della musica. Quindi sono andata a prendere il vocabolario dei vocabolari, il Treccani e ho detto, va bene, prendiamo e guardiamo come definisce la musica il vocabolario Treccani e proviamo a partire da qua per tirare fuori quello che ci serve nel nostro ragionamento. Se vedete la prima slide l'ho intitolata una definizione per ancorarsi. Il senso. Andiamo a guardare il senso della parola. Musica. Treccani ci dice, l'arte che consiste nell'ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni semplici o complessi che possono variare per altezza, intensità, timbro. Questi tre parametri sono fondamentali. L'altezza è, ovviamente lo sappiamo tutti, la frequenza delle vibrazioni di un corpo in termini tecnici, ma banalmente questa è una voce bassa, questa è una voce alta e lo sentiamo subito, la riconosciamo. L'intensità è ovviamente quanto sono ampie queste vibrazioni, dunque quanto è potente il suono. Io posso parlare così? Posso parlare così e voi percepite immediatamente la differenza. Il timbro è quella cosa per cui tutti i corpi suonano in modo diverso. La mia voce è diversa da quella di Maria Cristina, ma anche banalmente due matite che sono pure di legno, stessa materia, sono diverse da due bacchette che io uso per mangiare il riso. Ogni corpo vibra in modo diverso. Queste cose già ci connotano. Andiamo avanti. Possiamo andare alla slide successiva. Perfetto. Perché, giungo, scusami a Teresa, che le domande potete farle, c'è una chat apposta, una forma apposta in cui inserire le domande e diciamo che risponderemo più o meno alla fine. Comunque questa domanda era se le attività sono adatte anche a bambini disabili. Lo vedrete, sono adatte proprio a tutti. Perché, come sta spiegando proprio Teresa, adesso la musica è una cosa così legata alla nostra natura che parla a tutti. Scusami ancora, Teresa. No, no. Scusa tu. Assolutamente sì. L'altro elemento che mette dentro il dizionario Trecani ci dice, e questo è molto importante, da un punto di vista storico-antropologico, la musica si manifesta come una forma di espressione culturale integrata con le varie attività sociali, il lavoro, il culto, i riti, la danza, le feste, concorrendo al collegamento fra conoscenze ed espressione, alla coesione sociale ed etica, nonché alla trasmissione culturale. E qui mi vorrei fermare. Perché questo è un po' il senso di tutto il ragionamento che abbiamo fatto insieme, anche con Maria Cristina, ma, e con chi ha lavorato poi in Mondadori, ma è sicuramente una cosa che appartiene a quel senso primario, quel bisogno primario che vi dicevo. Intanto, la musica accompagnava il lavoro. Se si andava a zappare nei campi c'era qualcuno che cantava, se si remava qualcuno dava un ritmo, no? Cioè serve anche per fare fatica fisica. La si fa meglio è sincronizzando, per esempio, i respiri e i gesti. Questa cosa è già creare comunità. È legata al culto. Non c'è religione che non abbia le sue musiche, la sua sacralità attraverso la musica. La danza Savasandir, cioè nasce come, come dire, sorella stretta della musica, alle feste, ma la musica celebra tutti i momenti importanti. Di sicuro, una cosa possiamo dire, la musica nasce con l'uomo. Tutti noi abbiamo l'esperienza dei neonati che cominciano da piccolissimi a cantarsi le cose, a cantarsi dei ritmi, cioè il suono con cui non solo comunicano, quindi verso l'esterno, perché c'è un bisogno, che so il pianto, ma con cui si trastullano, si intrattengono. E questo è già un sintomo fondamentale di quanto il suono, e vedremo la voce, sono per noi fondamentali. Cioè è un elemento che è molto legato alla coesione sociale ed etica, ed è molto legato al rapporto fra conoscenza ed espressione emotiva. Chiunque faccia poesia, io mi occupo principalmente di poesia, come scrittrice e anche come lettrice, è sempre stato nel mio DNA, sa perfettamente, la Bisutti l'ha detto più volte, che la poesia è quella forma di linguaggio che, lavorando soprattutto sul suono delle parole, che è un suono che produce senso, fa lavorare insieme a emisfero destro e sinistro. La domanda che è stata fatta prima, i laboratori, le attività, le cose di cui parleremo sono adatte anche ai disabili, sapete tutti che la musicoterapia è forse uno dei settori più sviluppati nel lavoro con la disabilità, proprio perché è un linguaggio primario ed è un linguaggio che tiene insieme l'ambito cognitivo con quello emozionale. Quindi siamo assolutamente dentro una sfera che è una sfera magica per l'essere umano. Andiamo avanti. Io continuo, come vi dicevo, a guardare la definizione del vocabolario, qui non c'è Teresa, c'è la tradizione colta. Aggiunta, in particolare nella tradizione colta occidentale, la musica è una forma d'arte autonoma, in cui diversamente dalle altre arti, nelle quali la creazione coincide, e si conclude con l'esecuzione, in questo caso nella musica la creazione o composizione è un momento distinto dall'esecuzione, la quale soltanto permette all'invenzione di realizzarsi comunicandosi all'ascoltatore. In quanto espressione artistica, la musica è quindi sia il momento della composizione sia il momento dell'esecuzione, detto un po' arzigogolato, ma in sostanza ci dice. Nella musica, quando noi parliamo di musica in termine colto, pensiamo sempre che ci sia un compositore, quello che scrive quelle macchioline nere sul pentagramma, molto poco comprensibili per il resto del mondo, che rimangono mute finché qualcuno quella musica non le esegue. Questa cosa è vera a metà, perché io vi potrei dire è come un libro scritto che non viene letto. Se io sono un bambino che non è ancora alfabetizzato, un libro scritto è come una partitura musicale, se non c'è qualcuno che lo mette in voce, quei segni sono muti, è esattamente la stessa cosa. Ed è importante il paragone che vi faccio, perché soprattutto quando si lavorerà in prima elementare bisognerà ragionare sulla parola esattamente in questi termini, come se fosse uno spartito musicale. Cioè pensarla come qualcosa che ha un corpo sonoro nella sua identità vera, di cui la scrittura è l'ombra, è l'orma, non è l'essenza primaria. Bisogna giocare al contrario, la parola detta viene prima della parola scritta, mentre noi tendiamo a pensare che la parola scritta viene prima della parola detta. Se rientriamo in un ordine che è musicale, di avvicinarci a un testo come una partitura, riportiamo anche i bambini a un rapporto molto bello con la parola e a giocare con la parola, che è uno dei compiti che ci siamo dati. Esistono però situazioni, andiamo alla slide successiva, dove questo rapporto tra la scrittura e la messa in esecuzione di ciò che è scritto è sincrono, cioè la musica improvvisata. Non solo, c'è anche molta musica contadina, rurale o la musica delle tradizioni orali che nasce eseguita. Se io vi prendo Violetta Parra, che non sapeva scrivere musica e che ha composto una quantità di roba infinita, di cui gli stessi compositori si sono, come dire, meravigliati perché sembrava quasi conoscesse la dodecafonia arrivando dalla campagna cilena, quindi mondo che certamente non aveva studato Schoenberg, lì dentro c'è il senso di quello che vi sto dicendo. Però più vicino alla nostra tradizione c'è la musica jazz, in cui, attenzione alla parola che sto per usare, dentro delle strutture armoniche precise si improvvisa. L'armonia che cosa è? È quella cosa che permette al decista di dire stiamo andando in do maggiore, stiamo usando il re settima, si va di accordo diminuito, si va, cioè i jazzisti, i musicisti si riconoscono subito la struttura che c'è sotto e improvvisano. Guardate che l'improvvisazione è antica quanto la musica ed è colta quanto la musica. Dante Alighieri faceva questo con il suo amico Casella, lui scriveva, non a caso, scriveva sonetti, si suonano canzoni, si cantano, ballate, si ballano, basta ricordarsi i termini con cui noi codifichiamo la prima letteratura scritta e capite che la musica era quella linfa vitale che teneva tutto acceso. Ma se voi andate a guardare, diciamo, lo ha reso abbastanza visibile Barbero nelle sue trasmissioni su Dante, ma chi si occupa di questo lo sa molto bene, i rapper sono oggi i continuatori di questa tradizione di musica improvvisata che noi conosciamo negli stornelli. Io vengo da una regione, come sentite l'accento alla Sardegna, dove l'improvvisazione canora è all'ordine del giorno, lo era anche nelle campagne. L'improvvisazione è la risposta per le rime, ci si rispondeva dentro una linea melodica e dentro una consonanza di suoni che sono inseriti in un sistema alfabetico. Parola, suono, significato e senso, tutto insieme, sempre improvvisato. Andiamo avanti. Allora, improvvisare dentro una struttura armonica è quanto di più bello noi possiamo fare. È un po' la mia esortazione agli insegnanti, bisogna essere un po' jazz quando ci si avvicina ai bambini che imparano a parlare, perché loro sono jazz. Loro dentro una struttura grammaticale improvvisano. Lo sapete benissimo, lo sperimentate sempre. Pensate il passaggio che fa il bambino quando non è alfabetizzato, all'alfabetizzazione, all'assenza di regole quando parla per imitazione, alla grammatica. È facilissimo che il bambino comincia a sbagliare le parole quando tu gli dai la grammatica, dunque lui impara la regola, la applica a tutto, peccato che la lingua sia piena di forme irregolari. E quindi comincia a inventare significati o parole che non ci sono. Vi porto un esempio vissuto concretamente. Un giorno eravamo in montagna, una giornata fredda, un po' come oggi qui a Firenze, con vento gelido. Si usciva dalla macchina per andare a camminare e mio nipotino, Francisco, era molto piccolo, si rivolge alla nonna e gli dice mi dai il berro del nonno? Noi ci guardiamo e non capiamo cosa vuole il bambino. Lui ci guarda come dire perché non capite il berro, mi date il berro del nonno e noi continuiamo a guardarci, non capivamo. Finché qualcuno ha l'illuminazione, cioè lui sapeva che il suo si chiamava berretto, il cappellino, e siccome lui è piccolo, berretto doveva essere un diminutivo, dunque al grado positivo il cappello del nonno che è grande era un berro. Questo è un esempio tipico di uso, jazz, della lingua da parte di un bambino, cioè lui è partito da una cosa, etto è sempre un diminutivo, dunque esiste il grado positivo e se il mio è berretto quello del nonno è un berro. Bene, per capire i bambini bisogna avere questa elasticità e loro lo fanno normalmente. Resta che berro è bellissimo. Vi cito un altro episodio, non so se lo ricordo perfettamente, ma è anche questo indicativo. Lo aveva raccontato Giussi Quarenghi a un incontro e a un laboratorio di poesia in cui si scrive la storia di un principe che cammina nella notte, esce nella notte e il bambino scrive il principe Sparu e Giussi gli chiede volevi dire Spari e il bambino dice no, volevo dire Sparu, con la U è più buio. Allora vedete che anche qui per il bambino è immediatamente chiaro ed evidente che quei suoni creano un clima, quindi io credo che questa cosa sia molto importante e allora arrivo a questa zaide, le parole dette e le parole scritte. Vi cito due, diciamo così, due grandi montagne come le chiamo io dello studio della poesia e della voce. Da un lato Zumthor come teorico che dice il desiderio della viva voce abita ogni poesia in esilio nella scrittura, ogni poesia aspira a farsi voce, non esiste poesia che non debba essere detta. Carmelo Bene lo diceva da grande esecutore vocale con una frase che io mi tengo scolpita e mi ripeto tutta la mattina, poesia è la voce, il testo è la sua ecco. Potrei dirvi che alla parola poesia potete sostituire la parola lingua o linguaggio. Quando noi lavoriamo coi bambini e non solo ci dobbiamo sempre ricordare di quanto è importante il corpo sonoro di ciò che noi stiamo ovrando. Perché il rischio è che noi, diciamo, di quelle due cose che Bruno Tognolini chiama le due ali della poesia, cioè il senso e il suono, anzi lui mette la terza ala che è la bellezza, ma non sto a fare digressioni, diciamo che se ogni poesia ha un senso e un suono rischiamo noi di sbilanciare sempre dalla parte del senso piuttosto che dalla parte del suono. E invece, un po' come sapeva quel bambino di Sparou, in poesia ma anche nella vita il suono fa senso. Dobbiamo ricordarci che il suono è generatore di senso. La poesia ce lo dimostra in maniera eclatante quando è in no sense e così ci mette spalle al muro. Io posso fare totiscialoia, c'è una carpa, chiama l'arpa e la suona con la suola della scarpa e con ciò abbiamo finito. Il senso di tutto ciò è che abbiamo preso una serie di parole, carpa, scarpa, arpa, suona, suola e le abbiamo miscelate per trovare un senso. Quindi, assolutamente, questa cosa è importantissima. Allora, forse bisogna ritornare a pensare che le parole dette valgono quanto forse più delle parole scritte, mentre nel nostro sistema di istruzione sembra che la parola scritta valga più della parola detta. E questo è un primo cambiamento. Dire è molto importante. Dire bene è imparare a scrivere bene. E anche qui sapete voi quanto è importante nel dettato. E appunto, sempre da brava sarda, io avevo per fortuna una maestra che non raddoppiava i suoni. Bene, mia sorella aveva una maestra che raddoppiava il raddoppiabile. Mia sorella non è meno intelligente di me. Certo, faceva più errori di ortografia e non era un problema dell'intelligenza di mia sorella. Era l'abitudine sonora nelle sue orecchie, perché chi le parlava continuava a pronunciare. Quindi per lei la relazione tra fonema e grafema, in quel caso, vince il fonema. Non c'è niente da fare. La vedevamo scritta in tutti e due i modi, ma se te la pronuncio in un altro modo, tu vai in quel modo. Andiamo avanti. Bene, se è così, io mi chiedo, ci sono anche parole non dette? I pensieri? I pensieri suonano? Cioè, se io penso e non parlo, suono lo stesso? Io vi dico di sì. Vi ho scritto che ogni pensiero è portatore sano di un'emozione. Quando noi pensiamo, dentro di noi quei pensieri risuonano come se avessero una colonna sonora. Uno dei giochi che è importante fare con i bambini può essere proprio questo. Un bambino sta in silenzio e fa un'espressione e l'altro fa la colonna sonora di quell'espressione, di quel pensiero, che può essere allegatrista, la può fare con una percussione, la può fare con la voce. È il gioco che avviene nelle colonne sonore dei film. Pensate ai filmuti. I filmuti vivevano col pianista che improvvisava, ricordatevi bene questa cosa, il pianista improvvisava davanti alle immagini che stava vedendo. Perché poteva essere che a seconda del pubblico, lui aveva, come il jazzista che improvvisa, aveva una struttura di pezzi, ma a seconda del pubblico di come rumoreggiava, decideva di fare un pezzo piuttosto che un altro per interpretare quell'emozione che a video era sempre la stessa. Bene? Quindi la musica ci crea un clima importantissimo. Ce lo crea anche quando le parole non sono dette. Intanto perché risuonano dentro di noi, ma anche perché muovono il corpo. Bene, possiamo ancora andare avanti. E allora, adesso facciamo subito un gioco. Perché io ho preso il vocabolario e ho bleffato i tre cani. Come apre? Apre con l'etimologia della parola. Io ve l'ho messa alla fine. Ve l'ho messa alla fine e vi ho detto un'etimologia per decollare. Facciamo subito la prova. La parola musica, da latino musica, greco musiche, femminile sostantivato dell'aggettivo musicos, musicale, sottinteso tecnico, è arte musicale. Bene. Adesso che ci siamo detti che cosa è, ci siamo detti l'etimologia, proviamo a far suonare la parola, masticandola in bocca più volte. E vado. Parto dall'etimologia latina, musica. Adesso ve la dico nell'etimologia greca. Musiche. E poi vi chiedo, quale di queste due forme vi sembra più allegra? Oggi facciamo lezioni di musica? Oggi facciamo lezioni di musica? E non, cioè, non possiamo raccontarci. La musica è più allegra di musica. E quindi, se io dovessi ambientare una storia e decidere che la musica è il paese dove è l'ambiento, io quel paese non lo chiamerei musica, lo chiamerei musiche. E vi dirò, non solo lo chiamerei, ma l'ho proprio chiamato perché abbiamo fatto un libro in cui il paese in cui si ambienta la storia è proprio musiche. Allora, andiamo velocemente alla slide successiva. E qui io vi riporto quei concetti che vi ho detto all'inizio, prima di passare al nostro libro. Il ritmo, questo è Molesini, è la materia di cui siamo fatti. In noi pulsano il cuore, il respiro e il passo. Ecco perché quando parliamo lo facciamo obbedendo per istinto a un ritmo. Quando il ritmo viene usato con estrema maestria e messo a servizio del significato delle parole, allora noi facciamo poesia. La poesia è un modo di usare la musica delle parole, suoni che simboleggiano qualcosa, considerandole parte del loro significato. Cioè è un discorso dove il suono contribuisce in modo importante a determinare il senso e a muovere l'emozione. Allora, mettendo insieme tutte le cose che ci siamo detti, a questo punto io vi dico è da qua che è nata l'idea, per quanto mi riguarda ovviamente, di partecipare a un progetto che Mondadori ha appena concluso di lavorare, che è Armonia. Si può vedere la slide successiva. Allora, Armonia che cosa è? È un progetto per il primo ciclo e lo analizzeremo adesso insieme e noi adesso proviamo a guardare alcuni pezzi del metodo, anche dei libri di matematica, di storia, geografia e delle letture anche di classe seconda e terza. E poi andremo a guardare la parte di Hub Scuola dove voi trovate tutte le espansioni multimediali. Non so se Cristina vuole dire qualche cosa, visto che siamo arrivati al punto di, come dire, di aver messo insieme la genesi, diciamo così, teorica ed emotiva di un libro. Ascoltandoti, Teresa, sono ancora più convinta di questo progetto che abbiamo fatto, perché ogni volta mi incanti. Quando abbiamo pensato proprio di costruire un progetto che avesse come base emotiva anche la musica e abbiamo lavorato con Laura Valviserra, abbiamo coinvolto Teresa Porcella, Teresa ci ha incantato immediatamente con queste sue parole. Ecco quindi che abbiamo progettato proprio un libro che in particolare nel libro del metodo ha una storia, che appunto è ambientata a musichè, come ci racconterà adesso Teresa, dove però non è una semplice storia, ma è una storia che risuona, posso dire secondo me, emotivamente e realmente, perché è accompagnata da canzoni, perché ha un portato emotivo e di educazione civica fortissimo e ci sono tantissimi livelli in questo progetto che, vedrete, è così immediato, arriva così con immediatezza i bambini, ma dietro c'è una tale ricchezza che passa molto di più di una storia, perché tutto evoca nel nostro profondo, potrei dire, tanti stati d'animo e tanta crescita emotiva che senza questa potenza che ci ha messo a disposizione Teresa non sarebbe stato possibile, per cui veramente la ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme, che veramente anche per me è stato sicuramente una crescita. Chiunque voglia sfogliare il libro può andare sul nostro, sul nostro, su Mondadori Education, scuola primaria, ci sono le sfoglie a libro di tutte le classi, di tutti i pezzi di questo progetto, c'è già anche la guida con i contributi di Teresa, oppure può rivolgersi alla gente e farsi vedere la copia, per cui vi invitiamo proprio a esplorare questo progetto. Il metodo è pensato sia per una fruizione tutta in maiuscolo e c'è anche il progetto in parallelo per i quattro caratteri, per cui questo per soddisfare i bisogni di tutti. Ma proprio vi invito dopo questo lavoro oggi insieme a Teresa di andare e spulciare e a farvi affascinare da questo bellissimo libro. No, 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 grazie, grazie. Una cosa poi la possiamo aggiungere che il libro uscirà anche nella collana del Bartello a Vapore, cioè la storia uscirà autonomamente anche nella collana del Bartello a Vapore, e quindi volendo uno la storia se la può anche, diciamo, leggere, fruire dentro e fuori il libro scolastico. Una cosa che ha detto Cristina è che per me è molto importante, proprio perché Armonia è il titolo di questo corso e che per me è un po' forse la cifra con cui io lavoro i libri che faccio, per i quali faccio anche le musiche, apro parentesi, io faccio libri tipo questo, che è un libro per i bambini, diciamo, della vostra età, il Formichiere Ernesto, giusto appunto una storia musicale con tanto di libro, canzoni, cd, eccetera, eccetera, ma faccio libri anche per i bambini molto piccoli. Piccoli vuol dire 0-3 anni, i neonati. Se io non dovessi ogni volta riflettere sulle strutture profonde della nostra percezione, non potrei lavorare su quella fascia d'età, che invece, Cristina ha detto che ascoltandomi ha imparato delle cose, io devo dire che ne ho imparate tantissime lavorando con loro, ma aggiungo anche che ne imparo tantissime ogni santa volta, non solo leggendo la teoria, ma lavorando con i bambini. Cioè, in questo sono Montensoriana, i bambini sono i nostri maestri, non c'è storia, e i bambini non fanno sconti. Cioè, se qualcosa non va a toccare quel bisogno primario che hanno loro di relazione, loro ti ignorano. Il bambino di due mesi, di tre mesi, non fa cerimonie. Cioè, o lo catturi o non lo catturi, non ci sono storie. Allora, lavorare, e vuol dire andare alla radice dei bisogni primari dell'essere umano, di relazione, perché la musica è relazione, è un po' anche, diciamo così, il senso di quello che diceva Cristina. Questo corso è a molti strati. Uno può stare sul primo, può andare al secondo, può andare al terzo, può scendere, ognuno si posiziona dove vuole. Diciamo che i libri, le storie fatti bene devono avere questa caratteristica, perché vuol dire che ogni volta che ci torno potrò vedere una cosa diversa. E sarò diverso io nel tempo e ci scoprirò un'altra cosa, ma se non c'è quello spessore e io rimango a un livello unico, io quel libro lo leggo una volta e poi lo lascio andare, non ci torno più. Anche in questo i bambini lo sanno, hanno bisogno di tornare più volte, dunque non ci sarà neanche solo un modo di usare le cose, a volte ce n'è più di uno. E siccome il titolo è Armonia, e siccome vi ho parlato di Gets, il nostro libro è la struttura armonica su cui voi farete le vostre improvvisazioni, siete chiamati a farle le vostre improvvisazioni, dovete fare proprio un lavoro gezzistico, diciamo. La struttura vi aiuta, vi sostiene per forza, è quella per cui dialoghiamo, però questo è un libro dialogante, ha bisogno di voi per essere vivo, è un po' una partitura anche questa, ha bisogno di voi e dei vostri bambini, ovviamente, delle vostre bambine, per essere sonoro, per suonare, per risuonare. Anche prima Cristina ha usato un termine appunto risuonare, quello che sarà divertente vedere è che molti dei temi che hanno a che fare con la relazione e con la socialità sono termini, scusate, che hanno a che fare con la socialità sono termini musicali, non a caso. Se io dico che noi siamo in armonia e che dico se noi siamo in accordo, sto usando termini musicali, perché l'armonia è una forma di accordo tra i suoni, bene? Vi dirò di più, la somma delle parti non è uguale all'intero, perché l'intero è più della somma delle parti, questa cosa la musica ce la insegna ogni giorno, ma in maniera potentissima. Sempre qua, esempio chiaro, io sempre dalla musica sarda ve lo posso fare, ma in generale, voi sapete che esistono i cosiddetti suoni armonici, sono i suoni che un corpo sonoro produce entrando in vibrazione, in risonanza, uso il termine proprio di Cristina, con un altro corpo sonoro che vibra. Allora, il canto sardo è fatto da quattro voci, bene? Ci sono il tenore, il contotenore, il basso e saoghe, cioè la voce che fa i melismi. Allora, che cosa succede? Queste quattro voci, quando si sommano, creano un'armonia che fa vibrare l'aria in modo tale per cui si crea una quinta voce, che non è prodotta da chi canta, ma si genera per la vibrazione dei corpi, diciamo, delle onde sonore nell'aria. Questo succede tantissimo anche quando si suona nelle orchestre, cioè se tu non sei perfettamente accordato, non si generano quei suoni armonici che riempiono il suono. Questo succede nelle voci, una voce educata a cantare sviluppa più armonici di una voce non educata, cioè a più corpo, a più profondità, più rotondità. Questo vuol dire che l'armonia è proprio quella cosa, creare relazione che fa sì che i pezzi che entrano in relazione costruiscano un'unità che è più della somma delle singole parti. E io credo che questo sia il grande fascino della musica. Ci arriva subito. Vedrete anche che certe cose ci arrivano di pancia, proprio di pancia, nel senso che le vibrazioni basse ci fanno smuovere le membrane degli organi digerenti. Ecco, quindi ci sono proprio delle cose che per noi sono fisicamente armoniche o disarmoniche. Bene, passiamo alla storia. La storia l'ho già raccontata in altri incontri, quindi questa volta magari vado in maniera un pochino più sintetica perché mi serve come gancio per poi entrare dentro il libro. E anche questo è un esperimento rapido. Se io ve la racconto senza immagine, senza suoni, voi la percepite in un modo. Anzi, se ve la facessi leggere sarebbe già una cosa. Già sentirla dalla mia voce è un'altra, ma se poi l'aveste raccontata con le immagini e cantata con le canzoni sarebbe un'altra cosa ancora. Ed è inutile spiegarvelo, lo sapete, cioè qui andiamo nel banale. Comunque, vado veloce, la storia è in sintesi. Musique è un regno speciale a forma di stella. Di stella ha cinque punte. Ogni punta della stella è un quartiere e in ogni quartiere si suona una famiglia di strumenti diversa. Tutti gli abitanti dei quartieri suonano, ma attenzione, suonano sempre da soli, ma in gruppo. Non sanno cosa significa suonare insieme agli altri. Un giorno il re di Musique, il re Leo, bandisce un concorso per il miglior musicista del regno. Chi vincerà potrà esprimere un desiderio e suonare in un teatro a sua scelta. È chiaro che a quel punto scatta la competizione e il conflitto tra gli abitanti. Ognuno vuole essere il vincitore. In particolare scatta la competizione tra cinque amici, l'Aerone Alan, l'Elefante Hermes, l'Istrice Isa, l'Orso Oma e l'Upu Pauma. Il re è disperato. Pensava di aver fatto bene e si rende conto di aver fatto male. Quindi manda a chiamare una serie di esperti a corte perché lo aiutino a risolvere il problema, ma nessuno ci riesce. Nessuno in realtà non è giusto. Perché c'è un tale mago Pinguino che si presenta a corte e dice io so risolvere il problema. Portatemi qui cinque amici che prima erano molto amici e che adesso a causa di questo concorso non lo sono più e chiudeteli in una stanza della sala reale, in cinque anze diverse. Parlerò con ognuno di loro e scoprirò che cosa vogliono. E così avviene. Pinguino ovviamente parla con i cinque amici di qui sopra perché è inevitabile che siano i cinque scelti e scopre da ognuno di loro che ognuno vuole come premio uno strumento più bello di quello che ha e vuole suonare nel teatro Armonia. Che cosa fa Pinguino? Capisce che i cinque amici apparentemente in disaccordo, perché sono in competizione, in realtà hanno un accordo fortissimo nei loro desideri. Perciò capisce come risolvere il problema. Li fa entrare, spiega al re che l'armonia è quella cosa magica per cui i suoni si accordano, fa suonare un accordo dentro un armonium che è nella sala reale, quindi fa sentire il suono. Dice questa è un'armonia piccola ma l'armonia grande sarà quella che faranno loro adesso suonando insieme. E da bravo mago usa la sua bacchetta magica che a questo punto è ovviamente la bacchetta del direttore d'orchestra che dunque anche nel suo vestito è un po' mago, è un po' musico, è un mago musico, fa tornare la pace a musiche. Naturalmente la musica che viene fuori da questo insieme è talmente bella che tutto il regno che prima era in disaccordo si riversa dentro il palazzo del re e tutti scoprono che suonare è molto più bello. A tal punto che uno dei personaggi, Peppo e la Cocorita Mita, che sono due banditori del re, urlano la fatidica frase armonia e allegria e così tutto il regno, diciamo, si unisce all'urlo. Bene, la storia in sintesi è molto semplice. La metafora qual è? L'armonia, che è l'accordo di più elementi, è quella metafora che i bambini capiscono chiaramente. La prassi della musica d'insieme fa capire come la diversità, la complementarietà e la cooperazione siano importanti perché, come dicevamo, l'insieme è più della somma delle parti. Se questa è la metafora, possiamo dire che ci sono molti temi dentro questa storia. Nessuna storia vuole fare la morale, vuole semplicemente farci esplorare dei percorsi. In questo caso i percorsi sono molti, ma sicuramente i macro temi sono questi. Passare attraverso un conflitto e la sua risoluzione fa crescere. Tra essere in accordo, ma senza suonare insieme, ed essere in accordo suonando insieme, la cosa è diversa. Cioè, per passare però dalla prima fase alla seconda, bisogna passare per il conflitto. Musicalmente, chiunque vi dirà che si passa dalla consonanza alla dissonanza, che la dissonanza risolve, termine tecnico, in una consonanza. Ci sono già all'interno della scala dei suoni che sono la quarta e la settima, quindi se io canto la scala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do. Se io mi fermo al si, do, re, mi, fa, sol, la, si, questa cosa è instabile, do. Si dice che risolve naturalmente lì, e quel si è conflittuale in termini di consonanza con il resto dei suoni. Se li suono tutti insieme, i suoni della scala, quel si stona, come la quarta, il fa, che infatti ha un semitono con il mi. Vedremo questa cosa cosa significherà dopo. A proposito di scale, la nostra è una scala eptatonica di sette suoni, mentre esiste una scala, la pentatonica, che ne ha cinque, che guarda caso, toglie proprio il fa e il si. E ha tutti gli altri suoni. Ed è la scala universale più usata nel mondo. Pentatonica vuol dire di cinque suoni, come cinque suoni alle punte della stella. Attenzione. Bene. La cosa che viene fuori, non solo che l'accordo è una forma di amoria, ma quella cosa che, diciamo, io ripeto sempre ai ragazzi, è che competere a cooperare è molto meglio che cooperare a competere. Cioè, spesso e volentieri, questo succede non solo dentro la scuola, sembra che noi ci mettiamo d'accordo per creare la competizione piuttosto che sgomitare a cooperare, a essere d'accordo. Ecco, bisogna avvertire i termini. La musica, da questo punto di vista, è ovvio che se ha questa come metafora di base, è uno strumento efficacissimo di educazione sentimentale. Quello che vi ho detto, non solo perché crea climi e motivi forti, che permangono in memoria, ma perché chiarisce immediatamente che cosa significa il termine consonanza, consuonare. Suonare con, vibrare con, avere lo stesso tipo di vibrazione, di pulsazione interna. Bene, con quest'ottica sono state concepite le canzoni che tengono il libro. Andiamo, per esempio, a vedere una prima parte, l'ambientazione. Adesso, quel regno che io vi ho raccontato lo guardiamo in faccia. Allora, qui c'è il disegno della stella di Musiquet, il del paese di Musiquet. Vi ho detto che i quartieri sono cinque. Adesso ve li mostro. Sono, vedete, cinque colori diversi. Verde, azzurro, rosso, rosa e giallo. Ogni quartiere ha un nome, giusto appunto, sonoro. Adesso qui li vedete ancora meglio. Qui vedete la stella con l'indicazione di quartieri. Vedrete al centro della stella di destra un'altra stella, che è il palazzo reale, perché è tutto così. Questo è un altro gioco che potrete fare anche andando avanti, in seconda, in terza, cioè quando cominceranno a fare la geometria un pochino più complessa. Potrete vedere come dal pentagono nasce la stella a cinque punte e unendo tutte le punte nasce un pentagono e via e via. E questo, per chi non lo sapesse, è alla base della sezione aurea, è alla base delle spirali perfette, è alla base di tutte le architetture, è alla base delle proporzioni armoniche dei suoni. C'è un meraviglioso cartone animato, un paperino nel mondo della matemagica, di cui dopo vi darò, se ci riusciamo, un assaggio, se abbiamo il tempo, che lo racconta molto bene i bambini. Vedrete che musica e matematica sono ovviamente, sono nate insieme, Pitagora, che è stato l'idiatore del sistema temperato occidentale, era sostanzialmente un matematico barra musico. Torniamo a noi. Allora, la nostra stella e i nostri quartieri. Allora, abbiamo un quartiere che si chiama Dindon. Se è Dindon, voi capite che si suonano strumenti come i piatti, le campane, le maracas, gli egnetti, i silofoni e wong. Se la dovessi dire in termine tecnico, sono gli idiofoni, quegli strumenti che suonano facendo vibrare tutto intero il proprio corpo. Nel quartiere Tantam, quindi senza che far vibrare l'aria intorno, vibra il corpo. Nel quartiere Tantam ci sono gli strumenti che si battono con le mani o con le bacchette, come il tamburo, e sono membranofoni, se dovessi sempre dirla tecnicamente. Non ci importa, Tantam. Nel quartiere Firulì-Firulà ci sono gli strumenti dove si soffia, come i flauti, le trombe o le armoniche a bocca. E, vi state vedendo colorati, il primo è verde, il secondo è blu, il terzo è rosso. Firulì-Firulà, ovviamente, sono gli aerofoni, gli strumenti dove a vibrare la colonna d'aria quando si soffia. Nel quartiere Sdeon-Sdeon, è un quartiere nuovo, perché nelle tradizioni musicali, diciamo, fino a qualche tempo fa, non erano categorizzati come faglie di strumenti, sono gli elettrofoni, quelli nati dopo la nascita dell'elettricità, e che per essere attivati hanno bisogno della corrente elettrica. Prendete gli organi elettronici, le tastiere. Poi, nel quartiere Fran-Fran, invece, abbiamo gli archi e, in generale, i cordofoni. I Fran-Fran, perché in questo caso abbiamo messo il violino, ma anche la chitarra, per esempio, o il contrabbasso, o l'arpa. I cordofoni. Bene. Vedete che ogni quartiere ha un colore e una famiglia di strumenti. Anche qui, io vi ho detto i nomi, vi ho detto Din-Don, Tan-Tam, Firuli-Firula, Sdeon-Sdeon, Fran-Fran. Vi ho detto che c'è una stella a 5 punte. Bene. Se io adesso volessi andare a guardare cosa c'è nei contenuti digitali, che voi trovate su Hub Scuola, e adesso lo guardiamo, c'è una prima indicazione che è legata al regno di Musique. Allora. e cominciamo a vedere se possiamo, vediamo se riesco a condividere correttamente. Allora. Dovremmo esserci. Ditemi se adesso è a schermo intero? Sì. Perfetto, vado. C'era una volta il regno di Musique. C'era una volta, due volte, e anche tre, il regno stellato di Musique. Siete mai stati a Musique? Musique. È un paese speciale a forma di stella. ha cinque quartieri. Ha cinque quartieri. Ogni quartiere occupa una punta della stella e ha un colore diverso. verde, azzurro, azzurro, rosso, rosa e giallo. Un paese speciale non può che avere un re speciale. Si chiama Leo ed è un leone saggio e amatissimo dai suoi sudditi. Re Leo ha molti consiglieri e aiutanti. I suoi preferiti sono Mita, la cocorita, e Peppo, il pappagallo. Due simpaticissimi pennuti che vanno in giro a comunicare le notizie e gli ordini del re. Un paese speciale con un re speciale non può che avere un popolo specialissimo. A musiche, infatti, tutti gli abitanti sono animali e tutti amano suonare e cantare. Per essere precisi, in ogni quartiere si suonano strumenti di famiglie diverse. condivisione e ritorno da voi. Allora, già questo video è delizioso perché è stato costruito con molta attenzione a dare dei tempi precisi a ciò che si sta dicendo in modo che ogni bambino metta, diciamo così, mappi, quello che sta vedendo, e concettualmente fermi punti. C'è un regno, quel regno ha forma di stella, a ogni punta della stella corrisponde a un quartiere, e quindi prima ve li metti in bianco e nero, ogni quartiere ha un colore, e poi ve li colora uno a uno. Se c'è un regno speciale ci sarà un re speciale e si vede il re. Il re speciale si avvale di consiglieri, e fa vedere i consiglieri Papagallo e Cocorita, ma se il regno è speciale, il re è speciale, vogliamo non avere dei sudditi specialissimi, eccoli là, tutti i sudditi specialissimi. E perché sono specialissimi? perché tutti suonano uno strumento di una famiglia diversa. Boh, concettualmente ci sono tutti i passaggi che sono la prima parte che voi trovate scritta in guida della storia. Questo guido, il video già così, lo potete usare come uno strumento utile, utilissimo, ma noi siamo Jets e quindi possiamo anche decidere di personalizzarlo. Giusto? L'abbiamo usato una volta come Mondadori l'ha creato e fornito. Perfetto. Il titolo di questo incontro cos'è? Io come suono. E l'io vale non solo per i bambini, vale anche per gli insegnanti. Io insegnante come suono. Se dovessi raccontare ai miei alunni questa storia, come la racconterei? Posso raccontarla anche usando questo stesso video e parlandoci sopra, togliendo l'audio del video e parlandoci sopra io. Perché no? Vediamo se riusciamo a fare l'esperimento. Adesso tecnologicamente succederà l'incredibile. Allora, vediamo un po'. Provo a togliere l'audio, provo a ricondividere e voi mi dite se mi sentite mentre parlo. Mi sentite mentre parlo? Ditemi qualcosa perché sono a schermo intero. Bene, vado. Allora, adesso io faccio riandare le immagini e sono l'insegnante. Vado. C'era una volta il regno di Musique. C'era una volta, due volte e anche tre il regno stellato di Musique. Voi siete mai stati a Musique? È un paese speciale a forma di stella. Ha cinque quartieri e ogni quartiere occupa una punta della stella. Ah, e ogni quartiere ha un colore diverso. Verde, azzurro, rosso, rosa e giallo. Ora, un paese speciale non può che avere un re speciale. Si chiama Leo ed è un leone saggio e anche amatissimo dai suoi sudditi. Re Leo ha molti consiglieri ammitanti. I suoi preferiti sono Mita, la cucorita. Vediamo se appare eccola qui. È Peppo, il pappagallo. Eccolo lì. Sono due simpaticissimi pennuti che vanno in giro a comunicare le notizie e gli ordini del re ai sudditi. Un paese speciale con un re speciale non può che avere un popolo specialissimo. A Musique, infatti, tutti gli abitanti sono animali e tutti amano suonare e cantare. Ci sono volpi, conigli, orsi, elefanti, cocodrilli, ipopotami, un altro leone, asini, scimmie, insomma, non so, quanti ne vedete voi? Io ne vedo un sacco. Ecco, tutti amano suonare e cantare e per essere precisi in ogni quartiere si suonano strumenti di famiglie diverse. Chissà quali sono, c'è uno con i piatti, uno con una tastiera, uno con un violino, uno con un tamburo e una con un flauto, indovinateli voi. Teresa, è divertentissimo questa attività. Quindi, quello che proprio vogliamo proporre come esperimenti digitali è quello di utilizzare gli strumenti che vi vengono forniti, che sono tantissimi. In questo progetto ci sono più di 100 video, tra la prima, la seconda e la terza, e provare a metterci l'audio voi, prima voi, poi i bambini, man mano facendo degli esperimenti. Pensate che anche in classe terza, dove ci sono anche i video, per esempio, sull'uomo sapiens, potete anche utilizzare le interrogazioni documentario. È perfetto, tu gli metti il video sotto e parte la voce da documentario. L'uomo sapiens nasceva e comincia. Ma la cosa divertente davvero, al di là di tutto, è che questi video, vi dicevo, sono strutturati molto bene nella concezione, cioè qui c'è una regia intelligente, no? È una regia che ha colto in maniera molto puntuale quelle che erano le scansioni narrative del mio racconto. e nel fare questo vi mette uno strumento in mano potentissimo, perché lo potete raccontare voi, lo potete raccontare con i bambini, potete dare uno stop, cioè quando io, per esempio, faccio uscire la stella con i cinque colori, giusto? Questo video io lo posso raccontare per raccontare l'inizio della storia, io insegnante. Poi posso dire, dai, adesso quando io la riracconto, ognuno di voi quando arriva la folla degli animali mi fa il verso, tu chi fai? Tu fai il coccodrillo, ah, come fa il coccodrillo, il coccodrillo come fa, giusto appunto, bene, e cominciate quando arriva la folla a farli rumoreggiare e lì si sentirà tutta la folla degli animali, siete voi la voce narrante, bene, può essere qualcun altro la voce narrante, si possono esercitare a turno i bambini a essere la voce narrante, oppure si possono diciamo, assecondare uno con l'altro e andare a fare narrazioni condivise, si può anche fermare quando a un certo punto dice in ogni quartiere si suonano strumenti di tipo diverso, se voi avete fatto vedere quegli strumenti lì, provate a fare inventare il nome del quartiere prima che ci arriviamo, ma secondo voi un quartiere dove si suonano i piatti, come si potrà chiamare? Boh? E provate a fargli creare a loro delle onomatopee per poi scoprire se le onomatopee che loro hanno creato corrispondono o meno con le onomatopee che loro scopriranno nel video successivo dove giusto appunto c'è tutta quell'altra parte, cioè potete veramente fare un grande lavoro e il lavoro che voi potete fare ancora una volta è legato alla parola parlata e al corpo sonoro della parola, cioè non ne veniamo fuori, qui il suono è fondamentale, funzionerebbe in generale ovviamente, ma se un quartiere si chiama tam tam e uno si chiama sdeng sdeng e quell'altro firulì firulà e io ve li sto già intonando, è diverso che dire tam tam sdeng sdeng firulì firulà che va benissimo perché quando un lettore professionale fa questo compito tende a robotizzarsi ma non è quella cosa che i bambini farebbero e quindi voi avete il vantaggio di avere la lettura più diciamo canonica, classica, istituzionale che può aiutare bambini, italiani, stranieri a recepire il suono correttamente perché se lo interpretiamo da subito può darsi che non lo imparino, quindi lì la potete sentire poi però gli potete dare quella linfa vitale ed emotiva che è invece è solo vostra e ogni classe la leggerà in modo diversa per cui questa cosa è veramente importante cioè che voi qua siate come dire gezzistici l'armonia cioè la struttura ve la dà il filmato questo vale anche per le canzoni come si usano i filmati i filmati sono integrati nel libro digitale quindi basta un QR col telefono inquadrare il QR e il filmato parte ok quindi è tutto molto a disposizione qualcuno mi diceva ma bisogna essere competenti in musica non c'è bisogno è Teresa che ha fatto tutto il lavoro voi potete essere dei fruitori potenziati non so come dire degli utilizzatori potenziati trasmettere tutto questo ai bambini ma con un con un lavoro che è alle spalle voi proprio lo usate con con efficacia senza dover per forza governare tutto quello che c'è dietro devi metterti no no è che giustamente la regia quando siamo in due mi disattiva perché se no si va in risonanza no dicevo guardavo in chat qualcuno dice potrebbero raccontare i bambini certo assolutamente sì non solo possono raccontarla e quindi usate i video in questo modo ma come vi dicevo voi avete anche il potere voi e loro di stoppare in determinati punti il vantaggio di queste animazioni è che possono essere fluite tutte fluide avete visto che a un certo punto io mentre parlavo siccome so la storia l'ho scritta sapevo che doveva arrivare Mita la papagalla se non è ancora apparsa dico la migliore è Mita chissà quando appare sarà andata a mangiarsi un gelato posso inventare quello che voglio cioè quel momento di attesa è un momento narrativo e tra l'altro se io non so come dire la storia la riracconto guardando il video voi capite che a livello di memorizzazione dei contenuti è altissimo è importante sulla memorizzazione bene ma è importantissimo sul piano dell'improvvisazione i bambini ci metteranno dell'oro inevitabilmente ci metteranno dell'oro e la cosa bella sarà che ogni storia è diversa io che l'ho scritta sono felicissima di sentire le variazioni avevo una meravigliosa zia che per me è stata è una zia che ora ha 99 anni la zia nanna nella vita fa l'avvocato faceva l'avvocato penalista ma la sua vera anima era di narratrice orale io ho conosciuto tutto calvino i grim dai suoi racconti lei veniva a casa i sabati e le domeniche o da me o da mia zia mia zia è la casa unita la nostra quindi eravamo sempre un gruppo dai 12 ai 15 nipoti tipo lì e lei tipo incantatore di serpenti ci raccontava le storie qual era la genialità di zia nanna che se lei mi raccontava calvino e mi raccontava lo farò perché la leggerò per mondadori la regginota con le corna quando a un certo punto la regginota con le corna che ha mentito che ha truffato da quello che ha mentito e truffato e però gli dice va bene io se tu mi salvi ti faccio diventare mio marito e la fiaba finisce che lei ovviamente se lo sposa la zia nanna da capito femminista anteliteram cambiava il finale della fiaba per cui quando lui vinceva la regginota gli faceva dire sai cosa c'è siccome mi hai mentito fino a qua io mi sposo la mia bella rosa che abita in campagna e che a me balle non ne ha mai detto ti saluto e me ne vado e a volte la lasciava persino con le corna in testa cioè zia nanna faceva i finali improvvisati della fiaba tradizionale e ci ha abituato a questa grandissima libertà ma il canovaccio era quello cioè per noi Calvino le cenerentole nelle loro mille milla versioni erano tutte riconoscibili perché ce le ha raccontate ce le ha raccontate come Vassilissa ce le ha raccontate come Cenerentola ce le ha raccontate come Donnipelo ma era libero degli esempi di canzoni andiamo subito proviamo avanti perché mi sa che poi dobbiamo sì bene allora andiamo a questo punto faccio andare direttamente a te non c'è bisogno che condivida io e qui scopriamo come le canzoni creano tutti quegli elementi che abbiamo detto e anche qua delle canzoni voi potete avere anche solo le basi senza la parte cantata e vedrete come questa cosa può essere utilizzabile partiamo dall'audio in alto DIN DONN 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 DIN chi sta facendo un rumore da matti la ironia che gioca coi piatti SLEON SLEON RIN DIN 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 chi si diverte a creare con traspiernes l'elefante che testa sui tasti FRAM 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 FRIN che emette un suono che sembra un bambino l'istrice Isa che sfrega il violino TAM TAM TUM 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 TERO che spande nell'aria un suono oscuro è l'orso Omar che batte il tamburo PATRON TAM TUM DIN DONN DONN DIN DEUS DEUS ecco questo è un esempio delle tantissime canzoni che sono presenti esempio di utilizzo della traccia audio allora qui che cosa è successo? che anche qua ci siamo un po' intignati Cristina sa che io su questo sono stata insomma non dico bizzosa però mi sono un po' impuntata per fare delle armonizzazioni giusto appunto su un corso di armonia che non fossero sul solo pianoforte cioè ho utilizzato tutti gli strumenti che sono dentro il corso allora se voi adesso riascoltate la traccia audio senza la traccia vocale sentirete che suonano tutti gli strumenti di cui si parla e che l'ambientazione questo è un responsorio cosa vuol dire? che c'è una domanda e una risposta chi è che fa questo? è Pinco Pallino che suona i piatti chi è che fa quest'altro? è l'elefante che suona allora suona non è mai detto suona ma è sempre con la tecnica dello strumento quindi quello pesta i piatti quell'altro pesta i tasti sfrega il violino batte il tambuno soffia nel flauto loro cominciano a imparare i sinonimi di suono preciso sullo strumento già lavoro sul lessico che sarebbe divertente ma detto ciò le orecchie adesso ascoltate la base audio da sola grazie a tutti 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 Avrete sempre una frase introduttiva che serve per entrare nel clima del pezzo Per dare il tempo all'orecchio di ambientarsi Quindi prima frase Fai riandare l'audio Cristina della sola base? Poi quando ti dico sto Ambientazione Din, don, 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 din Chi sta facendo un rumore da matti? Arroneala che pesta sui piatti? Ha solo di piatti Chi si diverte a creare contrasti? Hermes l'elefante che pesta sui tasti? Solo tastiera Fram, fram, frim, 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 frim Che emette un suono che sembra un violino L'istrice Isa che sfrega il violino Tam, tam, tun, 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 tero Che spande nell'aria Che spande nell'aria un suono oscuro E l'orso Omar che batte il tamburo Ok? E potrei andare avanti Mi fermo Allora Questo è un gioco importante Perché avete gli attacchi Che sono abbastanza chiari Gli assoli degli strumenti Che ogni volta permettono la riconoscibilità Attenzione I nomi dei quartieri sono qua Se io dico Din, don, 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 din La prima parte, din, don, il nome del quartiere, din, don Sdeon, sdeon, rintintintin Sdeon, sdeon, sdeon È il nome del quartiere Fram, 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 frim, frim, frim Fram, fran è il nome del quartiere Tam, tam, tun, 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 tero Quindi tam, tam Firuli, firula Frim, 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 frero Firuli, firula È il nome del quartiere Cioè La caratterizzazione rinforza l'ambientazione Questo per dirla in termini narrativi L'orecchio ci aiuta Per cui Voi potete veramente giocare In maniera integrata Con tutti gli strumenti del libro Le parti scritte Le parti illustrate Le parti video Le parti cantate Le parti da cantare Bene Qua avete tutti gli elementi È un responsorio C'è chi fa la domanda Chi dà la risposta L'insegnante fa la domanda E la classe dà la risposta No? Din, don, 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 din Chi si diverte a creare contrasti E la classe risponde Bene Allora Capite che ve la potete giocare In un sacco di modi Bene Mi fermo perché Siamo andate lunghissime Io volevo però Appunto Dire che tutte queste cose Sono fruibili dal libro digitale E che veramente di sfruttare al massimo Tutte le possibilità che tu racconti Per far utilizzare il libro Come dici tu giustamente In maniera jazz Un'altra cosa molto carina Che è messa a disposizione Queste sono tutte le canzoni È che Ecco Per imparare i suoni dell'alfabeto Ci sono delle interessantissime attività Legate proprio al fonema Perché Ogni fonema suona in un modo diverso Ci sono tantissime attività Ovviamente per ogni tipo di vocale E poi Per le consonanti Anche con L'abbinamento con le sillabe Quindi veramente è un Preziosissimo Anche per fare tantissimi giochi Non solo legati alla musica Alla storia Eccetera Ma legati proprio Anche a un contesto quotidiano Quanti modi In quanti modi mi suona la A In quanti modi usi la A Cioè Questa veramente Tantissime possibilità Per utilizzare al meglio Tutta una parte di didattica Che accresce Proprio anche la competenza Fondologica Dei bambini Mettiti l'audio Teresa l'audio No dicevo Mi inserisco un attimo Vedo che c'è Maria Grazia Levato Che c'è anche Educazione motoria La risposta è sì Ed è tutto Educazione motoria Proprio quella cosa Che stava dicendo adesso Cristina Qui c'è un video Dove io lavoro con i bambini E gli faccio dire Le A In tanti modi Esattamente come Propongo Nella guida Ma vi lascio Un sacco di aperture La A La riporti Alla loro esperienza Quindi io dico C'è la A Assonnata In questo caso Ne ho date altre C'è la A Della risata Ha 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 Sono tre A Tutte belle staccate Acute C'è la A Dello spavento Quando avevo qualcosa Bene Allora Quando tu gli fai fare Tutta questa roba E' inevitabilmente Teatro Ed è corpo Ed è suono Quindi loro Entrano dentro La struttura Fonematica In maniera Giocosa Resta che la Imparano Quindi Rispondendo anche a Matteo Mi pare che si Che aveva prima Si può fare anche senza Una voce educata Assolutamente Si Si fa con qualunque voce E si può fare in tanti modi Veramente in tanti modi Quindi Sta a voi Ecco Mi fermo Perché mi sa che siamo davvero Molto oltre Non so Cristina A volte sei tu che devi aprire il microfono Pari e patta Ci sono tantissime domande Qualcuno dice Che se si può utilizzare il libro Dico Acquistare il libro anche Perché magari sono a un corso più avanti Ovviamente tutti i libri sono acquistabili Per cui Potete Avere il libro Tranquillamente Comunque Andate a vedere Tutti i materiali Che sono a disposizione Andate a vedere Il saggio digitale Andate Sulla Sulla pagina Di Mondadori Education Area primaria Per Libri sfogliabili Potete andare su Hub Kids Vedere tutte le potenzialità Che offre Il libro digitale Ci sono Tutte le discipline Ovviamente Ci sono le canzoni Per la matematica Le canzoni Per le discipline Perché Teresa Fa questi lavori Di risonanza Proprio Per tutte Le discipline Quando usciranno Quelli di Quarta e Quinta Ma Teresa Adesso Visto il successo Di Armonia Ci Ci pensiamo E quando Questo libro Arriverà In terza Faremo in modo Che ci sia Un progetto Altrettanto Potente Perché secondo me Questo libro È un Proprio Un cruscotto Di navigazione Che dà una potenza Di lavoro Incredibile È possibile Vedere la guida Sì è possibile Vedere la guida C'è tutto E terza No La storia Non prosegue In seconda E terza Ma L'accompagnamento Musicale Ha la stessa Potenza Anche Nelle classi Successive Purtroppo Non possiamo Far vedere Ad esempio Nelle letture Di seconda E di terza Ci sono Un lavoro Sulle stagioni Meraviglioso Meraviglioso Collegato Arte e immagine C'è Dove le canzoni E le poesie Risuonano Con i quadri Cioè È tutto Accompagnato Da dei video Veramente È un Progetto Ricchissimo Che Sono Dispiaciutissima Di non poter Approfondire Ulteriormente Con voi Che chissà Teresa Dovremmo fare Una serie Di webinar Su questo progetto Sì In realtà Secondo me Bisognerebbe Trattare alcuni temi Perché poi Bisogna andarci a fondo Cioè Se li tratti Sempre a volo d'uccello C'è il rischio Di rimanere Sempre in superficie Invece Siccome proprio Perché c'è quella stratificazione Che ci siamo detti Magari su alcuni argomenti Varrebbe La pena Di approfondire Quello che posso aggiungere A quanto ha detto Cristina E che mi sembra Comunque collegato Un po' le domande Che fate Che fate è questo A Si Si prosegue In seconda In terza B Si trattano tutti I generi musicali Il mio sforzo è stato Attraverso Le varie fasi narrative L'età dei bambini Passare I vari generi musicali Aggiungo anche Tutta la storia di prima Per come musicata Potrebbe diventare Un musical Uno spettacolo teatrale Io lavoro a fare queste cose Quindi come dire Parto sempre dall'idea Che tutto può diventare spettacolo Quindi è deformazione professionale E aggiungo anche Che man mano si va avanti Al lavoro Quei generi Soprattutto per esempio In terza C'è la canzone Sul metodo scientifico Cosa serve Per diventare scienziati O scienziate Per dire Che è un rap preciso E bisogna cominciare A utilizzare la parola In maniera spigliata Vi aggiungo anche Che fare questo tipo di esercizio È un esercizio importantissimo Per il parlato E per la lettura Cioè Il rap È un'educazione linguistica Pazzesca Quando i bambini Imparano a farlo bene Vanno come schegge Ho fatto tutto un libro Che è scienza rap Con degli altri autori Dove abbiamo fatto Tutta la scienza Possibile Immaginabile Sotto forma di rap E la cosa divertente Più bella È stato il ragazzino E la ragazzina Di seconda media È il collega Di terza Che ha detto Io all'esame di terza media Mi porto questi E glieli canto Cioè Noi ci siamo immaginati La scena del ragazzino Che va all'esame Cantando il rap No Però voleva dire Che riuscivano A stare dentro Una lettura E un parlato Che normalmente Per loro era ostico Questo esercizio È importante Il libro cresce Assolutamente Cresce con l'età del bambino E su questo Io devo ringraziare Mondadori Perché Mondadori Ha accettato Di fare comunque Un libro Fino alla terza Con un bel numero Di canzoni E che tenesse Quella struttura È vero che perdi la storia Ma mantieni il clima Mantieni lo stile di vita Diciamo Che hai assunto in prima E questo è un grande merito Di Mondadori Non so quanti altri editori Abbiano un corso Fatto così Grazie Teresa Allora io Concludo dicendo Ancora mi chiedono Se è possibile Vedere la guida Andate su Mondadori Education Area primaria Trovate tutti Questi libri Sfogliabili Di matematica Storia Geografia Fino alla terza Sono tutti visibili Non sono dei saggi Sono tutti visibili Compresa tutta la guida Qualcuno mi chiede Se la guida è scaricabile Ovviamente dal libro Sfogliabile No Una volta che l'avrete in adozione I pdf sono tutti Scaricabili Tutte le verifiche Sono modificabili In Word E poi io sono sicura Teresa Che faremo qualcosa di speciale Anche per chi adotterà Questo libro Perché quest'anno Stiamo proprio facendo Per il progetto Post adozione Che si chiama Oltre il libro Dove coccoliamo Gli insegnanti Che hanno scelto I nostri libri E gli dedichiamo Dei webinar appositi Per approfondire I contenuti Che sono presenti Nei libri Per cui sono certa Che offriremo Ai nostri adottanti Degli approfondimenti Con te In cui proprio Potranno Sfruttare al meglio Tutte le idee E tutte le potenzialità Che tu hai messo A disposizione In questo Magnifico Libro Concludo dicendo Che abbiamo ancora Due webinar Prima di arrivare Alla fine Del nostro Percorso Venerdì Alle 18.30 Presenteremo Le letture Sarà con noi Un ospite D'eccezione Daniela Palumbo Che ci parlerà Di coltivare La memoria Daniela è un'amica Per cui Vedrete che Vi catturerà Proprio con la sua Intensità E poi E poi Concludiamo Invece Il nostro Appuntamento Il 13 aprile Parlando Dei sussidiari E sarà con noi Giuseppe Festa Anche lui Un grandissimo Scrittore Ringraziamo Ringraziamo anche Tutti i colleghi Che lavorano Dietro le quinte Insieme a noi I colleghi Tutta la parte tecnica I colleghi Del marketing In particolare Daniela Boella Che ci assiste Sempre E tutti i colleghi Che veramente Ci aiutano A sviluppare I progetti Un abbraccio E buon rientro A scuola E Coraggio Perché ce la faremo Arrivare alla fine Dell'anno In presenza Arrivederci a tutti Buona serata a tutti Grazie a tutti